Cari amici di Teletermini, buonasera, bentornati all'appuntamento con Termini in altri termini. Questa sera lo speciale sportivo con tutti i risultati, i commenti su quello che è stato il weekend sportivo delle nostre squadre termitane in giro, in trasferta in casa. Ma abbiamo anche degli ospiti che ci fa piacere ospitare questa sera, caro Ciccio. Sì, intanto buonasera a tutti, ringraziamo sempre l'edicola Gatto per l'ospitalità. Questa sera abbiamo ospiti importanti per un progetto neonato che è quello dello Sporting Termini di calcio a 5. L'abbiamo definita in corso d'opera la sorella minore ma non per importanza, ma soltanto per una questione di cronologia. Quindi abbiamo oggi Marco Barbarino che è l'allenatore di questo nuovo progetto. Futsal. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per lo spazio che ci avete concesso. Alessandro Cirà. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo proprio da loro, insomma, anche perché quest'anno l'esordio è stato proprio dei migliori. Però, nonostante ciò, la squadra ha risposto già dal secondo incontro in poi. Sì, 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 ultimamente abbiamo dato notizie positive per fortuna riguardo a voi e dopo un inizio un po' così insordina avete ottenuto due successi di cui uno purtroppo col CUS che purtroppo non ha fatto classifica. Adesso mi parlavi di un buon pareggio ottenuto in trasferta sabato. Quindi partiamo proprio parlando di campo. Sì, buon pareggio, insomma, io non parlerò di buon pareggio. Anche perché parliamo di una squadra il finale di Pollina che, insomma, aveva meno punti di noi. Perciò noi vedevamo questa squadra come con lei che ci potesse rilanciare. Invece non è stato così, purtroppo, una partita molto strana che ci ha visto andare in vantaggio per la maggior parte del tempo della partita. Poi siamo stati rimontati e poi alla fine siamo riusciti a strappare un pareggio in estremis che comunque diciamo che fa morale. Stiamo deludendo un pochettino quelle che erano le aspettative. Oltretutto, dico, un Real Madrid, possiamo chiamarlo così, termitano, perché tutte le all-star del calcio termitano, le glorie del calcio termitano, sono tutte nella vostra squadra? Sì, praticamente sì. Infatti stavo dicendo che appunto l'organico è molto importante. Stiamo deludendo le aspettative appunto per questo. Singolarmente ho una rosa fantastica. Però purtroppo il gruppo ancora si deve amalgamare. Insomma, stiamo lavorando affinché ciò avvenga il più presto possibile. Forse non hanno giocato sempre insieme, quindi magari ci sono delle individualità forti che va creato il gruppo. Sì, questo è quello che manca attualmente. Anche un pizzico di fortuna non sarebbe male, perché tutte le sconfitte abbiamo perso di misura di un gol dopo essere andati in vantaggio. Però, ripeto, ho un organico molto importante, i ragazzi seri, che si vuole allenare con continuità. Sono convinto che comunque presto i risultati arriveranno. E noi saremo lì a documentarli. Allora, Ciccio, una squadra che è comunque, da quello che abbiamo visto nelle riprese che abbiamo fatto, una squadra che è lì, piantata, non ha sbafi, come si dice, non sbafa da nessuna parte. I reparti sono inquadrati, i giocatori, devo dire, sono davvero imponenti in campo. L'unico, gli unici gol che hanno fatto le squadre avversarie le hanno fatte o in contropiede o comunque di fortuna davvero. Cipiazzate, deviazione, insomma, abbiamo subito dei gol incredibili. Però naturalmente questo non deve essere un alibi, perché, insomma, non mi piace che si parli di sfortuna. Insomma, abbiamo molto da fare ancora e lavoreremo appunto per raggiungere degli obiettivi importanti. Io girerei una domanda ad Alessandro. Alessandro che, tra l'altro, se non erro, ha disputato anche qualche campionato fuori da Termini. Intanto com'è per te tornare a giocare qui a Termini e tornare a giocare in una struttura che comunque ha dato tanto al calcio a 5? E soprattutto volevo sapere che atmosfera si vive all'interno dello spogliatoio. Allora, innanzitutto rispondo alla tua prima domanda, dicendo che ho giocato molti campionati fuori, tranne il primo anno che ho giocato a Termini con la Virtus. E per me è un onore ritornare a casa dopo tre anni che non giocavo più completamente a calcio a 5 e riprendere questa esperienza. E diciamo che sono stato coinvolto dal progetto. Dal progetto che è un progetto serio, fatto di giocatori seri, fatti di una dirigenza che si sta occupando pienamente di qualsiasi dinamica e di qualsiasi problema. Il gruppo è fantastico, cioè, veramente, sono davvero contento di questo gruppo. È un piacere andarsi a allenare. Io ho disputato campionati dove mi andavo a allenare, però già ero così, titubante, se andarmi a allenare o meno. Qui, quando c'è allenamento, siamo quasi tutti presenti e diamo il massimo in campo. Certo, come diceva Marco, non possiamo prendere nessun alibi sulle sconfitte. Chiaramente la sfortuna c'è stata ed è stata chiara, perché quando perdi con squadre di alta classifica e perdi di misura, un gol poteva cambiare subito le sorti della partita. E come del resto vinciamo con la prima in classifica 8 a 1, quindi questo fa capire che le potenzialità ci sono e ancora non sono state espresse al meglio, ma a sprazi. Ecco, sì, parlando di progetto, parlavo con Marco, diciamo che questa è un'idea che nasce, diciamo, da una lampadina di Giorgio Lembo, un progetto che comunque non coinvolge soltanto gli atleti in campo, non si limita soltanto al campo, mi diceva Giorgio, ma è anche un progetto proprio ad ampio respiro, a 360 gradi. Quindi parlateci un pochettino dei valori che contraddistinguono questo progetto. Allora, quello che dico sempre ai ragazzi è che le vittorie sono importanti, ma al contrario di quello che diceva Boni Perti non è l'unica cosa che conta. Nel senso che questa società nasce non solo per fare risultati, per scalare le classifiche, le serie, ma nasce anche per il sociale, per lo stare insieme e per regalare delle emozioni a Termini Merese che ne ha bisogno. Ci tenevo appunto a ringraziare Giorgio che è stato l'artefice di tutto questo, e anche ringraziare comunque tutta la polisportiva Termini e tutta la famiglia Geraci che ci mette nelle migliori condizioni per poter proseguire nel migliore dei modi questo cammino. Quindi Ciccio, questa filosofia comunque che ritorna, nell'RCS, in loro, nello sporting, c'è questa filosofia nuova, questo nuovo modo di vedere lo sport, non soltanto come un gioco agonistico e basta, ma dove l'agonismo viene in secondo piano e il primo posto lo ha la socialità, le regole, la crescita. Il rispetto di valori importanti, il rispetto dell'avversario e soprattutto, come mi diceva anche Giorgio Lembo, una delle vocazioni principali di questo progetto è proprio quello di creare un'alternativa, di dare un'alternativa ai ragazzi, come diceva qualche puntata fa anche il presidente Chiavetto e l'RCS Volley, quindi sono delle finalità che finalmente sono comuni a tutte le realtà sportive e speriamo che realtà per realtà riesca a raggiungere questo obiettivo, perché se tutti riusciranno a fare un po' di questo che si prefiggono, diciamo che giovani per le strade ne vedremo sicuramente molto meno. E soprattutto speriamo in una società migliore che crescerà sotto questo obiettivo. Che possa partire sì, dallo sport, quindi lo sport non soltanto come dicevi tu e come diceva Marco, legato al campo, ma proprio lo sport come volano per il miglioramento della società, delle generazioni future. Allora ragazzi, per quest'anno abbiamo finito, giusto? Nel senso per il 2018, campionato sospeso? No, praticamente sabato ci sarà il derby, all'ora 18 a San Filippo Neri giocheremo contro l'Ascari, una partita importante che comunque una vittoria potrebbe rilanciarci e dare un pochettino di morale che è necessario. Oltretutto hai detto bene derby, spieghiamolo, perché nell'Ascari ci sono tanti termitani, tanti termitani che sono andati via da Termini e si sono trovati, con cui ho parlato, devo dire, fuori microfono così per parlare, e devo dire che mi hanno detto che hanno trovato lì un ambiente molto accogliente, molto bello, quindi comunque una squadra che forse ha iniziato prima di voi questo ragionamento nuovo, questo modo di vedere lo sport e il calcio, in questo caso, come socialità. Sì, è una società abbastanza attrezzata, composta comunque da elementi molto buoni, tra l'altro un mister con cui io ho avuto a che fare, ha allenato ai tempi del campo felice in C1, quindi diciamo che è una squadra che ha delle basi solide pure, comunque verrà a Termini per fare il risultato, e noi questo speriamo di impedirle in tutti i modi e cercare di proseguire un cammino che giornata dopo giornata spero ci vedrà vittoriosi, oltre che sul campo, come stiamo facendo fuori dal campo, anche sul campo. Quindi sabato alle 18 a San Filippo Neri. La trasmetteremo in diretto, ho parlato con Giorgio Lembo, il quale mi ha invitato, e quindi saremo lì praticamente da 17.50, una decina di minuti prima del calcio d'inizio. Benissimo. Oltre ad invitare ovviamente principalmente i Termini per andare al Palà, al San Filippo Neri, comunque offriremo la chance di vederla anche comodamente a casa. Assolutamente, oltretutto devo dire che i risultati che stiamo ottenendo come visualizzazioni, come immagine per le squadre che stiamo seguendo sono incredibili. L'altra sera il campionato Wisp di pallacanestro, che per carità è un campionato di parrocchia, chiamiamolo così, non un campionato ufficiale, comunque di categoria, è stato visto da migliaia di persone. Quindi questa cosa davvero ci fa piacere perché i palermitani hanno potuto vedere i loro giocatori, i termitani hanno potuto vedere i loro giocatori, chi sta fuori, abbiamo avuto ascolto addirittura da Sud America. Sì, 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 hai detto benissimo. Sì, diciamo che ci stiamo allargando e stiamo felici anche di aver contribuito in questo senso alla promozione dello sport termitano. E continueremo da questo punto di vista anche con gli amici dello Sporting sia a 11 sia a Futsal, ovvero il calcio a 5 e quindi comunque invitiamo tutti a venire al San Filippo Neri. Chi non potrà se lo guarderà sul cellulare o sul computer grazie a Tele Termini. Va bene ragazzi, io veramente vi faccio i miei migliori in bocca al lupo, sia per la partita di sabato che sarà ardua e comunque bellissima perché ripeto il Lascari è una bellissima squadra, voi siete una bellissima squadra, se nel momento in cui giocherete sicuramente vedremo spettacolo in campo e quindi tanto in bocca al lupo a voi e anche per il proseguo della stagione affinché questo gruppo diventi sempre più amalgamato e possa dare quei risultati che si stanno aspettando. Questo Real Madrid deve partire. Certo, è giusto che sia così perché comunque quando uno si trova ad avere un organico così importante ripeto non ci sono alibi. Altrimenti ti esoneriamo. Il rischio è concreto. Tra l'altro facevamo una considerazione oggi insieme preparando un po' questa intervista. Gli dicevo che lui ha fatto un passaggio perché viene dal calcio a 11 per cui adesso si trova ad allenare nel calcio a 5 e ci sta anche un periodo di transizione. Ci sono due modi di inquadrare la partita diversi. Io ho detto ai ragazzi che per me era come il primo giorno di scuola, nel senso che io ho sempre fatto calcio a 11, però la mia voglia di imparare, soprattutto la voglia di stare con loro perché sono fantastici, mi ha portato a fare questa nuova esperienza. e mi sono trovato ad avere a che fare con dei tatticismi completamente diversi dal calcio. E quindi naturalmente io ho avuto le mie difficoltà che loro mi stanno aiutando a colmare. Insomma, sono convinto che comunque i risultati arriveranno. Anche perché c'è anche una preparazione completamente diversa. Nel calcio molto più resistenza, qui invece molto più sprint. Sì, molta più velocità, molta più tecnica, molta più tattica. E io non sapevo cosa fosse un blocco a calcio. Invece a calcio a 5 sono fondamentali. Perciò, insomma, diciamo che è un mondo completamente nuovo, però molto piacevole. È un'esperienza molto piacevole. Quindi vi invitiamo ancora a seguire lo Sporting Futsal a San Filippo Neri, sabato alle ore 18. Grazie per essere intervenuti. Noi continuiamo con il nostro notiziario, partendo proprio dallo Sporting a 11 a questo punto. Sì, 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 a questo punto sì. Purtroppo si è fermata, fermata per così dire. Perché comunque i ragazzi hanno ottenuto un buon pareggio. Intanto salutiamo Marco. Ciao e grazie. Salutiamo anche Alessandro. Sì, si è fermata. Non è proprio uno stop, ma comunque diciamo... Sì, devo dire che non è proprio uno stop perché comunque un pareggio in trasferta, per carità, è sempre un grande risultato. Un 1 a 1 ottenuto a Pollina. E comunque diciamo che il bicchiere resta sempre mezzo pieno per lo Sporting. Proprio perché nonostante questo pareggio i ragazzi di Mr. Geraci e di Mr. Russo sono riusciti a conquistare un punticino, visto che è di vantaggio ulteriore rispetto alla seconda, che si è anche lei fermata a Caronia. Quindi adesso lo Sporting comanda a 25 e la Giardinella è sempre seconda, ma a 17. Quindi da 7 adesso sono comunque diventati 8 i punti di margine. Quindi diciamo che il bicchiere resta comunque mezzo pieno, per carità. Anche pienissimo direi, altro più che mezzo pieno, pienissimo. Allora ricostituiamoci, insomma ricerchiamo di fare ordine anche sulle nostre riprese, anche se tra poco avremo altri ospiti che ci parleranno di un'iniziativa anche lì sociale e sportiva. Lo sport ancora una volta torna ad essere protagonista e a mettere in campo valori importanti. Allora chiudiamo il discorso con lo Sporting che va in pausa. Sì, andrà in pausa invernale e tornerà in campo per l'Epifania il 6 gennaio alle 14.30 in casa contro il Real Casale. Una sfida che per carità non va presa assolutamente sotto gamba perché il Real Casale ha comunque ottenuto 13 punti e ha 4 punti dal secondo posto e ha un solo punto dalla zona playoff. Per cui è una squadra che sicuramente verrà a Sciara per giocare la partita senza alcun timore e che sicuramente merita il 100% del rispetto da parte dei giocatori dello Sporting. Forse di qualsiasi gennaio ci saranno novità per quanto riguarda il posto, lo stadio dove giocheranno perché c'è forse qualche novità, non diciamo niente, non a termine comunque, ma neanche forse non a Sciara. Comunque questo è tutto da vedere, tutto da sapere. Vi informeremo chiaramente, vi terremo informati. Allora, prima di passare al volley, a questo punto rimaniamo ancora sul calcio. Partiamo con questa iniziativa e invitiamo le ragazze che sono venute a trovarci ad avvicinare. Sì, sì, dai, dai. Ormai l'accompagnata devi venire. Vai, vieni qua. Allora, diamo un benvenuto, buonasera a... Camilla, il presidente Interact di Termini Mese. Interact, che sarebbero i giovani, i Rotary. Esatto. Allora, avete pensato di riproporre, se non è una proposta, una riproposizione? No, la prima volta il torneo, sì. Raccontaci. Ok, allora, quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso più rivolto ai ragazzi, al divertimento, insomma, e quindi abbiamo pensato di, appunto, organizzare un torneo di calcetto, calcio a 5, per, appunto, far divertire i ragazzi, ma anche per promuovere un progetto di valori profondi. Infatti, il ricavato sarà destinato alla costruzione di uno scivolo per ragazzini in carrozzella, davanti alla biblioteca comunale, dove in questo momento ci sono soltanto scale e non è accessibile per le persone in carrozzella. Infatti, in questo progetto ci sta aiutando un mio carissimo amico che è Vincenzo Tormina, che è costretto alla carrozzina da sempre. E quindi, niente, sarà questa domenica, 23, al Centro Sportivo Torracchio, Termini Bassa. E' un torneo non stop, secondo me. Esatto, è un torneo non stop. Sarà alle 9 e mezza, 10 del mattino e già stiamo ricevendo moltissime adesioni da tante squadre. Chi è interessato, comunque può rivolgersi al Torracchio Sport Center, no? Esatto, può benissimo contattarmi. Io sono Camilla Melli, sia su Facebook, su Instagram, nei vari social. Aspettiamo l'adesione. Allora, sì, rimanendo in tema proprio di valori, diciamo, volevo, avevo una curiosità così, volevo chiederti se avete già fatto dei progetti del genere o se ne sono previsti anche in futuro. Sì, diciamo che abbiamo organizzato sia progetti per il sociale, per il territorio, per Termini Bassa, sia anche progetti a scopo benefico. Infatti abbiamo organizzato delle passeggiate con i ragazzi della Lega del Filodoro, che appunto sono ragazzi che non hanno né la possibilità di vedere né di sentire spesso e quindi hanno soltanto bisogno di un braccio per fare una passeggiata. Oppure abbiamo organizzato appunto cose un po' tre virgolette frivole per il territorio, come Vetri Alive, che quest'anno è stata organizzata la seconda edizione. È stato anche quest'anno un grande successo, con oltre 90 ragazzi. Questa è una cosa davvero simpatica, originale. Cioè, al posto dei manichini c'erano i ragazzi dell'associazione che posavano con gli abiti, ed è davvero particolare perché tu ti aspetti di vedere il manichino, invece c'era una persona vera. Esatto. Diciamo che la seconda edizione è stata richiesta più che altro sia dai negozianti che dai ragazzi stessi, quindi è stata davvero una grande iniziativa secondo noi. Bene, allora in bocca al lupo ricordiamo domenica 23 dalle 9.30 del mattino, chiaramente fino a quando si concluderanno i vari gironi, insomma, a conclusione, questo torneo per uno scopo benefico, quello di appunto piazzare un scivolo davanti alla biblioteca comunale. Che servirà per accedere alla biblioteca stessa. Alla biblioteca, perfetto. Grazie allora. Grazie a voi. L'associazione Interact ha quello che fa per la nostra città, le loro iniziative. Noi andiamo avanti con il nostro notiziario, andiamo avanti caro Ciccio, parliamo di volley. E lì, ora cominciano le note dolenti un pochettino, no? Eh sì, le note dolenti, ma diciamo che fino a un certo punto, perché partiamo dalla B2, ci avevano preventivato una sfida difficile per le ragazze di Gocipirrotta contro la Seat Paragona che occupava la seconda posizione del girone I di questa B2 femminile. Effettivamente le attese sono state assolutamente confermate, la partita è stata davvero dura. Peccato perché le ragazze erano riuscite a partire col piede giusto, avevano strappato il primo set. Noi eravamo lì a commentarla, quindi l'abbiamo vissuta proprio dal vivo. E poi peccato per il proseguo del match, perché proprio, niente, la Seat Paragona ha deciso di rendere tangibili quei valori che fino al primo set erano rimasti soltanto sulla carta. Per cui quando hanno deciso di far parlare il campo non hanno lasciato scampo assolutamente alla squadra di Merese. Peccato perché avevano già fatto uno scherzetto alla Sifi Condor in casa, erano riusciti a batterla. Pazienza, ci aspettavamo un altro salto importante, purtroppo così non è stato. Adesso la squadra di Gocipirrotta comunque ha delle settimane di tempo per cercare nuovamente di premere il pulsante reset, di recuperare energie e di prepararsi, perché infatti le ragazze torneranno in campo il 5 gennaio alle 18 per un'altra partita di cartello, contro la prima in classifica questa volta, contro Messina. Che non arresta assolutamente la sua marcia, intanto abbiamo il disturbatore, il Paolini della situazione. Il Paolini della situazione, ce l'abbiamo anche noi a termini. E niente, praticamente sarà difficile. Sarà il 5 gennaio alle 18 a Messina, che occupa la vetta della classifica con 27 punti, seguita proprio da Aragona, che ne ha totalizzati 24. E chissà che magari il panettone non dia l'energia giusta alle ragazze per ripartire. Oltretutto poi daremo una notizia, perché poco fa ho visto passare il capitano dell'RCS che mi annunciava, ma ancora me lo devono confermare, di una bella festa dello sport, proprio la settimana prossima. Sì, hanno già pubblicato l'evento su Facebook, Un Natale con i Fiocchi, hanno rinominato questo bel evento natalizio, in cui saranno presenti tutte le realtà giovanili e anche la prima squadra, compresi i genitori e chiunque voglia aderire a questa bella iniziativa natalizia per trascorrere insieme praticamente un pomeriggio di festa. E chissà che non ci siano anche le ragazze del coach più rotta che forse facciano questa sorpresa. Esatto, che facciano questa sorpresa, c'è questo velo di mistero. Va bene, allora passiamo a questo punto alla Serie D. La RCS Vole in Serie D che comunque non arresta la propria marcia. Ho ottenuto un successo importante a Carini per 0-3. Una partita che ci hanno detto è stata molto combattuta, se non altro anche perché la squadra di coach Chiavetta era rimaneggiata. Addirittura mi hanno detto che Agnello abbia disputato quella gara da centrale, quindi proprio ha dovuto colmare l'assenza di Silvio Graziano, che è stato uno degli elementi che a muro è stato fondamentale. ha garantito un buon bottino di punti, sia a muro che devo dire anche in attacco imbeccato perfettamente da Di Carlo. Per cui una RCS Vole che continua a conservare la leadership nel proprio girone, a quota 16 punti, seguita dal gruppo media volley che è di Milazzo, a quota 15 che però ha comunque una gara in meno. Per cui sì, è una leadership, però bisogna aspettare l'esito, il recupero diciamo di questa gara. Bisogna continuare a vincere. Sì, intanto bisogna continuare a vincere. I ragazzi di Mister Chiavetta, diamo un altro appuntamento, torneranno in campo anche loro dopo le feste, è turno nel quale comunque osserveranno il loro riposo. Per cui torneranno a riequilibrarsi un attimino i giochi e quindi li vedremo in campo nella settimana del 12 gennaio. E quindi per loro le vacanze durano un po' di più e speriamo che stavolta il panetto non faccia effetto opposto. Allora andiamo purtroppo alle note dolenti anche qui della serie C e poi passiamo al basket con l'ultimo ospite della serata che non è un ospite, anche lui. Io lo chiamerei direttamente, invece già adesso lo colgo impreparato, non è il bello della diretta, lui che segue praticamente da una vita... E non ci entra, non ci entra, ci entro, buona sera. Mi raccomando, siamo in diretta. Esatto, non fare come per il basket, comportati bene. Questo buonasera, buonasera così molto... Comportati bene. Antonio Mirici comunque per chi non lo conoscesse o per chi conosceva solo la voce, lo vedete anche fisicamente, che non è proprio il massimo. Diciamo, però... No, 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 è un caro ragazzo, un caro ragazzo. Allora, eh... Antonio, la Curreri farma più. Tu mi hai detto che hai esistito all'ultima... che purtroppo i ragazzi hanno perso... Scusa, in trasferta hanno perso per 1-3, però hanno conquistato il primo set del loro campionato. Sì, sì, hanno... Che cosa sta cambiando? Su che cosa stanno lavorando? No, i ragazzi... Io abbiamo visto l'ultima partita due settimane fa, io sono stato presente, ci facendo un po' di miglioramenti, soprattutto in ricezione, qualche piccola laguna fondamentale del muro, della free ball, del contrattacco. Ora, l'ultima partita hanno perso 3-1, hanno conquistato finalmente il primo set, purtroppo, perdendo 3-1, zero punti per loro, però a poco a poco stanno cercando di migliorarsi e di dare una svolta al loro campionato. Purtroppo hanno avuto problemi di infortuni vari, Emanuele Iacona, il palleggiatore, l'altra due settimane fa non ha giocato per un problema al ginocchio, uno dei due palermitani... La prossima gara sarà il giorno dell'epifania in casa, il 6 gennaio alle 18, contro una medtrade che non naviga in buone acque come la Curreri. Infatti occupa la terz'ultima posizione, se non erro, a quota 5 punti. Per cui un match in cui i ragazzi sicuramente dovranno provare a fare quel salto di qualità, quello scatto d'orgoglio. E sì, noi sicuramente saremo lì presenti a vedere la partita, vediamo se c'è questo scatto improvviso, se ci sarà questo scatto improvviso, speriamo bene. Noi glielo auguriamo, glielo auguriamo assolutamente un grosso in bocca al lupo ancora una volta alla squadra di Serie C, che si faccia onore e che conquisti quella sicurezza che magari perdendo le partite si va un pochettino psicologicamente a scheggiare. Allora fortunatamente hanno un settore giovanile che va fortissimo, un under 18 che sono primo in classifica, ora in questo momento stanno giocando a Palermo contro l'Obi Volle, squadra di giovani irrenda, rivali sempre molto acermi di loro. Però questa Serie C, con tutti i ragazzi, che sono cercando di incrementare, io credo che a breve ci saranno dei risultati positivi, sperando subito già dall'epifania. In bocca al lupo al coach Iacola e ai suoi ragazzi, andiamo al basket, perché sì, siamo in chiusura, ormai il tempo è quasi scaduto, basket che è esordito proprio martedì contro i Ballaro Vipers, una partita davvero vissuta, in pieno, anche da quei grandi ascolti che abbiamo avuto, com'è andata? Ma i ragazzi hanno perso di 13 punti, 34 a 47, hanno avuto una partenza un po' altanelante, i primi 4 minuti 0-0, poi sono stati sotto il 12-0, poi hanno avuto sempre quei 10-12 punti che non sono riusciti a recuperare, hanno avuto solo un piccolo scatto d'orgoglio sul 14-17, poi sono rilanciati il quintetto base, però ci sono stati grandi miglioramenti, come ho detto ieri in teleconaca, sono una squadra che si autogestisce, c'è il senso che fanno i cambi fra di loro, il gruppo lo vedo coeso, Francesco è anche assistito all'incontro, può anche testimoniare bene quello che sto a vedere, però i ragazzi a poco a poco li vedo molto migliorati, difensivamente parlando, qualche problema giustamente, non essendo una squadra molto fisica, sono stati molto salvastati dal punto di vista atletico, però credo che quest'anno daranno... Riusciranno sicuramente a vincere qualche partita in più rispetto all'anno scorso. Sono nove squadre. Alla fine questa è la notizia importante, cioè come li avete visti in campo, io non c'ero, come li avete visti rispetto all'anno scorso? Li abbiamo visti più sul pezzo, devo dire, rispetto all'anno scorso, sicuramente avranno cambiato qualcosa a livello tecnico, a livello tattico durante la loro preparazione, non so, comunque è cambiata il loro approccio alle partite e l'interpretazione anche della gara in corso. Un grande Nicola Cannavò, sempre sugli scudi, che è stato il best scorer. 18 punti per Nicola. E tanti nuovi innesti giovani, che è sicuramente giusto il tempo di trovare la giusta amalgama con i più esperti, diciamo, sicuramente riusciranno a rendere. Quindi nonostante una guida, cioè in mancanza di una guida tecnica, sono riusciti comunque a dare quel segno di miglioramento e questo è importantissimo. Sì, tra l'altro la Fiamma Basket, che quest'anno avrà anche un campionato femminile, hanno disputato la loro prima gara d'esordio domenica nella palestra del liceo scientifico, venivano da una sconfitta in trasferta, hanno ottenuto la prima vittoria stagionale nel loro campionato di Serie C femminile. Per cui speriamo anche in loro, speriamo che qualcuno ci mandi notizie, volevo anche fare questo appello e noi riusciremo anche a seguire, quindi in maniera più precisa e puntuale, anche questa nuova sfida che è partita a livello femminile. Chiaramente la Presidente Inalasita, invitiamo a darci gli scordi, di darci le informazioni, di venirci a trovare, altrimenti ricordiamo che il 28 di dicembre, venerdì della prossima ancora settimana, che sarà il primo giorno utile chiaramente per parlare ancora in diretta con voi, cari amici, avremo qui, sempre le dico la gatto, in diretta avremo la Libertas, storica società di basket, che ci ha regalato sogni, davvero di tutti, grandi, grandi sogni con la Serie A femminile e che ora ci riprova, rifondando questo nuovo progetto con dei finanziatori importanti, Insorge Di Mera, ma non soltanto lui, anche l'assicurazione, l'Allianz Sicilia, che ha investito su questo nuovo progetto. Quindi davvero, ci fa piacere di questo ritorno sul campo, dei campionati ancora minori, ma che speriamo, possano andare avanti e possano ritornare a quei fasti che ci hanno dato davvero tante gioie alla nostra città. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Noi non ci resta altro che, quindi intanto dare appuntamento per sabato 22, il 18 al San Filippo Neri, perché sarà l'unico evento che copriremo, diciamo, in diretta, perché gli altri campionati degli altri sport sono andati già in pausa. Quindi alle 18 al San Filippo Neri per la diretta dello Sporting Termini di Calcio 5. Non ci resta altro che augurare, mi sa, un buon Natale a tutti i nostri sportivi e non di Termitani. E quindi, Antonio. Buon Natale, buone feste, speriamo che ne passate tutti bene. Noi ritorneremo presto. Vivi qui a fare una telecronica. È incredibile. È un mito. Va bene. Grazie Antonio Minici, grazie a Cicciolinella che sono i pilastri di questa redazione sportiva. Vi auguriamo naturalmente come redazione sportiva un buon Natale, delle ottime feste. Noi ci rivediamo, come vi ho già detto, venerdì 28 in diretta qui con, ancora una volta, un ospite sportivo. Ci sarà appunto la Libertas Basket. Grazie, buona serata e alla prossima. Grazie. Grazie.